Assessore Galasso, con Risernia all'insegna della solidarietà, la città naturalmente parteciperà numerosa, le istituzioni non mancano, soprattutto il comune. Sì, l'augurio e l'ospicio è quello di ripetere il successo dell'anno scorso. Oramai è diventato un appuntamento calte della città di Risernia per quanto riguarda il monto dell'atletica. Arriva dopo qualche mese dall'evento nazionale dei campionati italiani, sicuramente sarà una bella giornata dedicata allo sport, alla solidarietà e ci sarà anche l'opportunità per chi non è di Sene di poter apprezzare quello che di bello abbiamo nella nostra città. Tra le novità più assolute la gara, il progetto di integrazione multiraziale con l'accoglienza riservata ai migranti che sono nelle strutture della provincia di Risernia. Una bella iniziativa sicuramente. Sì, quest'anno l'associazione NAI, a cui va un plauso perché sono iperoperativi in questo settore, ci hanno presentato questo progetto che è stato sicuramente subito sposato dalla nostra amministrazione in qualità anche di assessore alle politiche sociali, non potevo fare altrimenti. L'idea di coinvolgere praticamente questi ragazzi che stazionano qui a fianco a noi, a Macchia di Sene o a Santa Capito, è l'opportunità di conoscerli ancora di più e integrarli per quanto è possibile all'interno del nostro tessuto sociale. E chissà, ci potrebbe essere anche un campione tra di loro. Ma i bambini sono in prima fila. Sì, anche perché, ripeto, è una giornata legata proprio allo sport, ma al divertimento. Quindi anche educazione e avvicinare quanto più possibile i bambini al mondo dello sport.